Dal 30 marzo scorso il consultorio di Francavilla al Mare è chiuso, c'è un comitato spontaneo che è nato nelle ultime settimane, oggi state manifestando per chiedere la riapertura immediata. In realtà i primi incontri risalgono al 20 luglio, poi ci siamo visti a ottobre, abbiamo ricevuto diverse promesse da Thomas Schell che il consultorio avrebbe riaperto a settembre e così non è stato, poi a dicembre non è stato, adesso l'assessore Veri dice che riaprerà a metà febbraio, noi siamo qui e non possiamo arretrare. Avere un consultorio di Francavilla vuol dire avere un'assistenza psicologica accessibile, avere un'assistenza ginecologica, avere il pediatra, fare screening per il tumore al collo dell'utero, il pap test, c'è stato un vertiginoso calo di questi screening che vuol dire che ci sono donne a rischio. Ci tengo a precisare una cosa, non riguarda solo Francavilla, riguarda tutti i paesi limitrofi che si servivano del consultorio di Francavilla e che adesso non c'è più. Oggi chi si serviva fino a qualche mese fa di questo consultorio dove deve andare? Adesso deve andare a Chieti, in un periodo in cui ci chiedono o di restare dentro casa o di non uscire dal nostro comune si rischia di creare assembramenti in quelli che sono gli uffici di Chieti e anche di contrarre il Covid, noi questo non ce lo possiamo permettere.